Molly! Cos'hai? Headache, mal di testa No problem Molly, c'ho le capsule Puoi provare Moment Capsule Molly? Che mollo? Siete molli voi quando dite queste cose qua? Perché vi fa comodo dire queste cose qua, che uno è mollo? No voi, qualcuno, qualcuno, tra virgolette Non sono mollo, quale mollo?